Le porte del centro direzionale di via Calamandrea di Nuova Banca Etruria, per la prima volta sotto il marchio Ubi, si sono aperte a centinaia di bambini per le mini Olimpiadi in famiglia. Noi lo riteniamo un evento importantissimo perché è da questi ragazzi che possiamo capire quello che sarà poi il futuro, capire quelle che sono le necessità che saranno da introdurre sia dal mondo della tecnologia. Oggi questi ragazzi qui sono abituati ad usare la tecnologia in maniera diversa da quello che la utilizzo io, che ho oltre 60 anni e pertanto abbiamo tutto da imparare. Cercheremo anche di partire a mutuare da loro, cercare di capire quali saranno poi gli strumenti da poter ogni giorno andare a portare nelle case delle famiglie. L'evento speciale è unito alla giornata della famiglia, il pomeriggio a porta aperte dedicato ai figli dei dipendenti, alla giornata per lo sport, la riunione di tutte le realtà sportive che l'Istituto ha voluto continuare a sostenere anche per questa stagione. I piccoli si sono così potuti cimentare nelle più disparate discipline sportive. Quando aiutano le società aiutano essenzialmente i bambini che fanno sport, questo va precisato nei termini giusti. Mi ha fatto piacere che l'amministratore abbia detto che i uomini UBI stanno rapportandosi col territorio, con le società, con le realtà presenti per capire i meccanismi e come loro possono intervenire per aiutare. Quindi io direi che è un'occasione questa qui che va a merito del nuovo istituto di Arezzo, ma va anche a merito del mondo sportivo che ha risposto per farsi vedere.